Comprare la macchina nuova torna tra i pensieri degli italiani. Per l'Anfia, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, quest'anno cresceranno sia la domanda di veicoli sia la produzione che nel nostro paese coinvolge quasi 2200 aziende di componenti. Un terzo è in Piemonte. Nel 2022 registrano un fatturato di circa 20 miliardi in aumento del 5,8 per cento rispetto all'anno prima e quasi 57 mila impiegati in lieve calo. Imprese che anche quest'anno si raccontano nell'indagine dell'osservatorio sulla componentissica automotive proprio di Anfia e Camera di Commercio di Torino. Tra i temi attuali il blocco in Europa alla vendita di veicoli nuovi diesel e benzina dal 2035. Mancano 12 anni ma intanto meno della metà delle aziende piemontesi, il 45,1 per cento, è già pronta a produrre componenti utilizzabili su mezzi elettrici e a idrogeno. Neppure il 30 pensa di attrezzarsi per soddisfare i nuovi segmenti di mercato. Tra le possibilità anche continuare a vendere pezzi per motori a combustione fuori dall'Europa. Il 17,4 per cento, di fatto una ditta su dieci, valuta di abbandonare il settore dell'auto. Gli imprenditori italiani sono preoccupati anche dall'entrata nel mercato continentale dei produttori cinesi. Intanto continuano a investire sull'innovazione, sono attenti all'ambiente, diversificano i clienti, cala il fatturato generato da vendite a stellanti seiveco e cresce chi esporta e l'ottanta per cento. Tre le priorità, sostegni per il costo dell'energia su digitalizzazione e ricerca e sviluppo.